Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come è facile e divertente ma soprattutto utile distribuire i parametri delle nostre Sony. Le Sony devono essere tutte gemelle. Cosa significa? Questa macchina qui è una Sony A7M3, perciò posso portare i parametri da questa macchina a un'altra macchina identica. Vale per la A6M3, A6M4, A6M5, serie S, S2. Cioè posso portare tramite la scheda SD i picture profile e altri parametri di settaggio da una macchina a un'altra. Chiaramente, come ho detto prima, gemelle devono essere identiche perché chiaramente ogni volta che esce una macchina nuova ha qualcosa in più che la precedente non ha, di conseguenza questo trucchetto potrebbe non funzionare, non ho ancora provato comunque. Allora, sostanzialmente si tratta di sfruttare le memorie in dotazione. Se avrete notato c'è il tasto 1 e 2, memoria 1 e memoria 2. Poi all'interno c'è M1, M2, M3 e M4. Queste quattro memorie vanno nella SD. E qui viene il trucco della distribuzione che vi faccio vedere. In modalità video vale anche per le foto, chiaramente, tutte le impostazioni fotografiche. Io mi porto in modalità video, ok? Scelgo, setto i picture profile, quello che mi interessa, tempi, diaframmi, ISO e bilanciamento del bianco, riconoscimento del viso, livello dell'audio, la messa a fuoco, anche altri parametri come il formato di registrazione video, le linee guida, insomma, tante tante cose. Chiaramente poi per darle a un collega a distribuire all'interno di un team di lavoro senza stare a settare le macchine una per una. Basta copiarsi tramite un pc la cartella Sony all'interno di una nuova scheda SD e così via. Poi lo spiego meglio. Comunque, io ho fatto tutti i miei settaggi e ho fatto anche un profilo nel PP9 che dopo distribuo nel gruppo Sony Alpha Video Italia, ok? Di un famoso profilo colore molto richiesto. fatti i nostri dovuti settaggi per portare tutti i nostri parametri all'interno della SD è sufficiente andare nel menu 1, memoria, che sta per memorizza, mortacci loro, e qui se vedete bene c'è anche richiama ma per richiamare è facilissimo, basta rimbalzare da 1 e 2 e posso richiamare in qualsiasi momento tutte le memorie. Io su 1 e 2 ho fatto una cosa. Nella memoria 1 ho messo i parametri per l'esterna, memoria 2, i parametri per gli interni magari un cambio di scena veloce, io ho già pronto i parametri ad hoc. Per richiamare appunto anche le memorie 1, 2, 3, 4 è stessa cosa. Posso rimbalzare da 1 a 2 o soltanto passare da una memoria a un'altra e poi spostarmi per poterle richiamare. M3 è vuota, non c'è grafica, M2 sono già stati memorizzati. Praticamente io ho settato la mia macchina, poi tramite il tasto memorizza, la funzione memorizza, vado a scegliermi una delle quattro disponibili, confermo con il tasto centrale. È un po' improvvisato, lasciate stare il video, la color, quant'altro. Sto usando una 6003, va bene così, perché non ho molto tempo. Sono le 9 di sera e devo cenare. Comunque, confermando, si portano tutti i parametri, anche i picture profile. Una curiosità, con questa tecnica i picture profile diventano 54 o una cinquantina, perché bisogna fare 6 per... E quanti ce ne sono qui? Dunque, vediamo un po'. Così ho registrato. Praticamente 6 memorie per quanti picture profile. Qui nella nuova macchina ce ne sono più di... ce ne sono 10, perciò fate voi il conteggio. Come ho detto prima, più di 50 picture profile. Non servono, chiaramente, però è una curiosità che ho scoperto, insomma. Perché per ogni memoria è possibile cambiarle tutti quanti. Allora, vi faccio vedere lentamente come fare. Io ho settato tutta la mia macchina. Mi sono programmato questo tasto per memorizzare le memorie. Perciò, senza andare nel menu, io faccio semplicemente una pressione. Vado a scegliermi la memoria da scrivere o da sovrascrivere. Ok? Non faccio altro che fare memoria che sta per memorizza. Mi scelgo la memoria e confermo. Adesso, come ho detto prima, da 1, 2, 3, 4, quelle 4 memorie vanno a finire nella SD. Io prendo la SD, la inserisco all'interno di una macchina gemella identica e posso andarla a richiamare o tramite il menu, richiama, che adesso mi si è attivato chiaramente, oppure la posso richiamare semplicemente ruotando la ghiera qui in alto, una manopola qui da fra 1 e 2. La vado a richiamare. Infatti c'è richiamo qua su. Se fate caso qui, spero che si veda, ti dice che c'è M1. Sto utilizzando la memoria 1. Ok? Se io giro in modalità video mi diventa normale così. Se uso la memoria 2 mi darà soltanto 1 e 2, l'icona cambia. Adesso io vado a richiamare la memoria 1, che ho preso da un'altra macchina, dove all'interno ci sono tutti i picture profile che voglio distribuire o condividere semplicemente. Adesso io voglio questi parametri dalla SD portarli all'interno della macchina, nelle memorie 1 e 2. È facilissimo. Prima di tutto vado a richiamarmi la memoria interessata, perciò M1. Ok? La macchina ha caricato tutti i nostri settaggi, di cui anche i picture profile presenti all'interno. Voglio memorizzarli nella macchina. E qui è sempre facilissimo. Basta andare in menu, memoria, che sta per memorizza, confermare e vado a sovrascrivere la memoria o 1 o 2. Così li avrò portati all'interno della macchina. Se si inserisce una scheda vuota, è possibile portare questi parametri dalla memoria 1 o 2 all'interno di queste quattro. Praticamente sempre con lo stesso metodo. Faccio così. Inserisco una scheda vuota. I parametri sono già stati copiati all'interno della macchina. Mi posiziono su memoria 1, chiaramente, in modo che vengano caricati. Inserisco una scheda vuota. Faccio memoria. E vado a prendere una delle memorie libere. Ok? È praticamente semplicissimo. Basta riguardarsi un paio di volte questo video e il gioco è fatto. A presto. Io sono Dani Ditu sul gruppo Sony Alpha Video Italia. Un saluto a Ciccio Villeri, Michele Telari, Domenico e chi altro? Poi a Vincenzo Petrocelli, Luga Milazzo, Alessio Martinelli, Alex Sofo. Vi voglio tanto bene. A presto ragazzi. Grazie. Grazie.